TG Web di giovedì 8 di novembre, bentrovati a tutti quanti voi. Si dimette a malincuore dalla carica di consigliere comunale, capogruppo del PD a Senigallia, Lorenzo Maggi Galluzzi, chiamato in causa dal consigliere del coordinamento civico, Roberto Paradisi, per lavori affidati dall'amministrazione comunale in carica e da quella precedente alla sua società, la Geomarine SRL, per un'indagine di mercato per rilievi battimetrici e topografici dei fondali del porto di Senigallia. Un incarico da circa 40 mila euro in tre anni a partire dal 2009. I primi commenti nel servizio. Una scelta personale, io reputo di grande coraggio, in un periodo in cui nessuno si dimette da niente, lui per togliere, riprendo le sue frasi, quindi le faccio mie, per togliere dall'imbarazzo e dalla difficoltà giunta sindaco e maggioranza, in 24 ore decide di dimette. Quindi assolutamente un gesto che tra l'altro condivido. Credo che le dimissioni di Maggi Galluzzi siano un fatto dovuto e necessario, nel senso che l'azione ispettiva fatta da Roberto Paradisi in questo senso sia stata meritoria, ha fatto scoprire una questione non positiva per il Comune di Senigallia. Credo che abbia fatto un bel gesto, perché poi comunque, di fronte a una situazione di quel tipo, seppur con le giustificazioni tecniche, giuridiche che lui ha portato, dopo che seppur è un problema anche di opportunità e quindi è vero che abbia fatto bene. Torniamo in studio. Nel pieno della stagione venatoria si intensificano i controlli del servizio di polizia della provincia di Ancona, che solo ad ottobre hanno portato a termine varie operazioni per garantire la tutela della vifauna migratrice. Nelle campagne di Senigallia, ricorda il commissario straordinario della provincia Patrizia Casagrande, sono state denunciate due persone che avevano un richiamo acustico vietato. A Falconare e Chiaravalle sono stati fermati due cacciatori sorpresi ad abbattere esemplari e protetti. A Sassoferrato è stata sequestrata un'arma vietata. Un caso simile si è verificato anche a Corinaldo. Le imprese edili senza liquidità per colpa di cattivi pagatori. Vediamo. Imprese edili del senigallese incatenate dai ritardi di pagamento. La carenza di liquidità affligge con particolare virulenza il comparto costruzioni che più degli altri soffre del continuo dilatarsi dei tempi di retribuzione. Una delle conseguenze che la crisi sta mettendo in luce è quella legata al ritardo e al dilatarsi dei tempi di pagamento. Purtroppo chi ne sta facendo le spese, oltre a tutto il settore economico e quello artigianale, è il comparto dell'edilizia. Sappiamo benissimo che cosa significa pagare, sappiamo benissimo che cosa significa mandare avanti un'azienda, per cui i tempi che oggi sono di 180 giorni mediamente, quindi sei mesi, sono dei tempi assolutamente fuori da ogni logica, che stanno mettendo in ginocchio un comparto intero che è quello appunto del settore edile e quindi riteniamo che questo trend vada assolutamente invertito. Una piccola speranza c'è, perché il governo proprio anche sotto le pressioni di confartigianato nazionale ha di fatto recepito la direttiva dei 30 e dei 60 giorni, per cui ci aspettiamo insomma in qualche modo che è con l'inizio del 2013 e quindi con la scrittura del nuovo decreto. Ostravetere, il sindaco Bello ha presentato a Bruxelles al Parlamento europeo la petizione sui campi elettromagnetici, disegnando un indirizzo unico per tutti gli stati membri. Il problema non riguarda solo Ostravetere, ma l'intero territorio nazionale ed europeo. Bruxelles deve inserire la questione nella sua agenda delle priorità e dare corso ad un regolamento unico, omogeneo e uniforme, che coinvolga tutti gli stati membri. La giornata mondiale del diabete, che ogni anno si celebra in tutto il mondo il 14 di novembre, rappresenta la più grande campagna di informazione, sensibilizzazione e prevenzione del diabete in Italia. Gli eventi organizzati in occasione della giornata mondiale del diabete si terranno nei giorni del 10 e 11 novembre. A simboleggiare l'evento a Senigallia la rotonda sabato 10 si tingerà d'azzurro. E l'ultima notizia ringrazio Michele Manoni per l'assistenza alla regia e il montaggio e l'appuntamento è per la prossima edizione. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti